Senia Balsarolo, 28 maggio, proprio ieri hai saputo che farai parte della delegazione svizzera che parteciperà in America ai campionati mondiali. Sì, esatto, sono stata proprio convocata ieri dopo una settimana di allenamento a Tenero. Ecco, l'Hockey recentemente ti ha già portato, grazie a queste selezioni, in Norvegia, quindi in Ungheria. Che esperienze sono state? La prima è stata un'Olimpiadi giovanile e quello è stato anche molto intenso e la più recente è stata quella in Ungheria dove si sono svolti gli europei. La selezione è molto nutrita, presumo che per arrivare a rientrare nel numero che poi può partecipare è una questione anche dura, nonostante siate amiche, ma è una concorrenza molto dura. Sì, è proprio una concorrenza, si è molto felice per il successo dell'altra, però anche te stessa vuoi metterti in gioco. Quali sono le aspettative di questo mondiale? Tu credo fai parte delle più giovani partecipanti e quindi le aspettative sportive. Essendo la più giovane spero di poter giocare il più possibile, anche se non so quanto sarà, però ci proverò a dare il massimo. Benissimo, anche a nome dei lettori del Benina un augurio, ci risentiamo subito dopo il tuo rientro. Grazie. Grazie.